Buonasera e benvenuti al TGR Lazio. Digos ha il lavoro per identificare l'ultra della Lazio che durante il derby indossava la maglia con il numero 88 ineggiante al nazismo per i cori antisemiti. Anche la giustizia sportiva dirà la sua. Intanto la dirigenza della Lazio si è dissociata da quanto accaduto allo stadio. Ha espresso parole di condanna. Ce ne parla Eleonora Fioretti. Identificare Hitlersson 88, il tifoso della Lazio che domenica scorsa ha indossato la maglia della squadra del cuore con la scritta di Chiara Matrice nazista. La Digos ha scandaglia tutte le immagini girate fuori e dentro lo stadio per arrivare a lui e non solo. Sotto osservazione, sottolineano da via San Vitale, è tutta la tifoseria ultra della Curva Nord che durante il derby capitolino ha urlato core antisemiti trovare i responsabili è il fronte comune di Ministero degli Interni, Questura di Roma e Polizia. Episodi condannati dal club bianco-azzurro che si costituirà parte civile e in un comunicato ufficiale prende le distanze da quanto accaduto. Anche il giudice sportivo della Lega Calcio della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha chiesto ulteriori indagini sui cori antisemiti. Sul caso si deciderà entro il 4 aprile prossimo anche in base all'esito dell'inchiesta. La violenza verbale cresce all'interno degli stadi, fuori gli scontri. 33 ultra tra giallorossi, partenopei e aretini sono stati perquisiti dalla Digos di Roma, Napoli e Arezzo per definire le responsabilità della guerriglia avvenuta lo scorso 8 gennaio in A1 nell'area di servizio di Badia Alpino. Tutti sono indagati per rissa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Le tensioni tra tifoserie da tempo mettono a rischio la sicurezza della città, questione che riaccende il dibattito politico. In vista dell'arrivo nella capitale dei tifosi olandesi del Fai e Nord per i quarti di Europa League contro la Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha chiesto al ministro degli interni Matteo Piantedosi di valutare divieto di trasferta per evitare incidenti, come accaduto nel 2015 in piazza di Spagna.